Oh, benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Castinesi in diretta da Radio Show, io 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 io! In occasione della partita Italia contro l'Albania, che si svolgerà oggi, sabato 15 giugno 2024, con fischio d'inizio alle ore 21, vi do appuntamento dove? Presso Borgo Sole, per seguire in diretta l'incontro di calcio, con la proiezione su Maxi Schermo, questa è una partita che è valevole per gli europei 2024, ovviamente ci saranno anche due ricchissimi in menù, uno per bimbo da 15 euro e l'altro per adulto da 20 euro, non mancherà la musica selezionata da me, Vittorio Castinesi, coperto incluso, parcheggio custodito gratuito, relax e divertimento offerti da Borgo Sole, vicinale casa massima numero 4, Trani, provinciale Trani assicurato, nota bene, si accede solo con prenotazione al numero 353 38 26 784, il divertimento assicurato, voi non mancate, vi aspetto!